Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tanke e questo nuovissimo video che faccio questa volta nella serie Nella Terra di Steve, quindi in Minecraft. Questa è la puntata numero 6 e oggi cosa faremo? Vi faccio vedere. Innanzitutto creerò attorno a questa farm di Selce una costruzione che mi è stata suggerita da molti di voi grazie all'asta che io ti suggerisco, che vi ringrazio tanto di aver utilizzato, siete stati moltissimi a suggerirmi cosa fare e adesso vi dirò chi mi ha dato i suggerimenti che io considererò maggiormente, ma vi dico già che tutti i vostri suggerimenti mi hanno fatto un piacere enorme. Poi cosa faremo? Andremo anche a mettere a posto la farm di Skeletri e quindi la XP farm, ma partiamo subito con la farm di Selce. Innanzitutto vi dico che il suggerimento che seguirò mi è stato dato da The Void Cat e successivamente è stato completato da Dado Was Here. Tra l'altro, Dado Was Here mi ha dato un sacco di suggerimenti durante tutta la serie e in una miriadi di miei video. Infatti lo ringrazio tanto e lo saluto perché è lui il mio sostenitore ideale, che si fa sentire e che mi dà suggerimenti per migliorare la qualità e i contenuti dei miei video. Ora però iniziamo a costruire, così potrete vedere cosa succederà a questa farm. Ho già preso tutti i materiali che mi servono, li ho messi nelle varie ceste, quindi mi serviva litten frame. Scalini, ma dovrei averci gli scalini. Eccoli qua, un po' di legno, le cesoie per prendere poi i cespugli e poi dopo mi servirà la ghiaia, le rotaie e la selce. Allora una cosa che potete vedere è che ho abbassato di un paio di livelli il buco. Questo perché ho avuto dei problemi poi col Cancelletto, ma vedrete successivamente e vi spiegherò. Innanzitutto dovrò sostituire questi pezzi di terra con del legno, visto che la cascina voglio che sia tutta in legno. Perciò prendiamo la pala e iniziamo a scavare. Qua sotto si vedono i circuiti di redstone che hanno portato poi alla costruzione della botola gigante che ti porta giù alla farm. Ho finito ragazzuoli, ora è il momento di mettere il legno dove è giusto che stia. Tutta questa farm sarà soprattutto di bellezza perché adesso vedrete, visto che è passato un po' di tempo da quando ho fatto la farm di scheletri, quanto mi ha fruttato nelle due settimane in cui è stata in funzione. Non sono stato neanche troppo a FK, come mi ha detto giustamente uno dei miei iscritti. Forse è ancora Dado Was Here. Non si deve stare tanto FK in quella farm proprio perché il massimo di scheletri che può stare in un blocco è 24, il massimo di entità che può stare in un blocco è 24 e perciò devo ammazzarli numerose volte. Però comunque sono stato FK avendo lo schermo portata di mano e ammazzando di volta in volta tutti gli scheletri. Vedete solo 26 livelli perché sono arrivato ad averne 80 più di una volta. Un paio di volte sono arrivato ad averne 80 ma sono morto e quindi adesso ne ho 26 perché ho ripreso un attimino ad ammazzare scheletri ma non è bastato per tornare a quel livello alto. Mi chiederete perché ancora utilizzo gli arnesi, gli attrezzi di ferro. Allora semplicemente perché io sto aspettando a fare la tavola degli incantamenti perché voglio avere prima di tutto, devo avere prima di tutto una farm di mucche perché non ho pelle, ne ho solo un pezzo che ho nella mia cassa. E perciò devo fare prima la farm di mucche per poter fare i libri, per poter fare le librerie perché voglio avere subito potenza 30 nel nostro tavolo degli incantamenti e perciò sto temporeggiando ad incantare tutti gli attrezzi e poi incantare le armature eccetera. Perché i diamanti, come forse vi ho fatto vedere nell'altra puntata, ma no è passato un po' di tempo dall'altra puntata, quindi vi faccio vedere, i diamanti non mi mancano. Ne ho 62, quasi uno stack di diamanti. Credo mi basterebbero abbastanza per fare tutto ciò che mi serve con i diamanti appunto. Facciamo così, perché parto da basso da mettere le scale. Ora scendiamo e prima di continuare direi di creare tutto il muro, o comunque una parte del muro qua, che poi dopo mi servirà da appoggio ecco. Ho deciso ragazzi miei di mettere i blocchi, quindi di non fare un tetto proprio che si vede sia uno scale. Vediamo come esce, se non mi piace al massimo ascia e tolgo quello che non mi interessa ecco. Quindi continuiamo a piazzare le nostre scale, ma se facessimo che ci vediamo direttamente quando ho piazzato tutte le scale, così vediamo il risultato finale, vediamo se dobbiamo togliere dei blocchi. A dopo. Ed ecco qua ragazzuoli, questo è il risultato. Allora, è venuto un po' alto, questo è vero, quindi sono in dubbio se togliere l'ultimo pezzo là in alto, e quindi lasciare il tetto piatto per un piano. Quindi vediamo cosa succede se lo faccio. Ed ecco il risultato togliendo l'ultimo. Sì, è un po' smorzato, non saprei. Però ci siamo, questo è il risultato per adesso. Metterò un cancellettino che si apre poi con la pedana. Il cancelletto è il motivo per cui ho abbassato la botola, perché se la lasciavo alta avrei dovuto fare uno scalino per fare in modo che non si vedessero i circuiti di Redstone, e quindi non si sarebbe aperta con la pedana. Così apro qua, scendo e si apre anche qua. Da dentro si aprirà manualmente, perché in teoria non dovrei poter uscire da dentro, perché dovrei uscire poi da quella botola là. In ogni caso, quindi, qua posso tirare su di uno, e dovrei poter entrare esattamente, non dovevo entrare, però fa niente. Ho fatto pure rima. Ora torniamo su. Eccoci usciti. Allora, questa sarà l'imponenza della nostra costruzione. Che cosa farò adesso? Oltre a fare delle finestre, che da questa parte giustamente non si possono fare perché c'è il tetto. Da questa parte aspetto un attimo a farle perché ci voglio mettere, come mi ha detto Dado Was Here, la ghiaia. Però innanzitutto cosa facciamo? Con le cesoie che giustamente ho già preso, prendiamo un po' di foglie che mi faranno da cespuglio. Piazziamo queste foglie in modo che sembrino, appunto, come ho già detto prima, una siepe. La facciamo arrivare qua. Da questa parte metterò della ghiaia e ci metterò sopra delle rotaie, per fare in modo che sembri che sia tenuta assieme, appunto, dalle rotaie. Ed ecco qua il risultato. Mi sembra carino, dai. Qua sopra poi ci faccio una finestra, perché non è possibile che sia un edificio così grande senza finestre. Qua però non mi piace che sia sotto e quindi faccio un altro strato. Vediamo, sì, ne ho abbastanza. Ora entriamo e facciamo le finestre. Non so se ho il vetro, non l'ho controllato, me lo sono proprio scordato. Però non importa, per adesso aspettiamo. Allora, da qua la finestra direi di farla in questo modo. Ah no, non posso, perché sono in basso giustamente, quindi la faccio qua. Da questa parte, invece, sarà questa, bella grande, in modo che sia bella da vedersi questa costruzione. Poi mettiamo l'item frame qua, con un pezzo di selce che mostri il significato di questa farm. Ora mettiamo il vetro, undici pezzi di vetro, non so se mi bastano. Non mi bastano di due. Infatti due pezzi di vetro mi sono accorto che però non mi piace che ci sia quel piattume là in alto verso la fine della costruzione. E perciò ci rimetto gli scalini per fare in modo che finisca proprio a strapiombo. Mettiamo gli ultimi due pezzi. Ed ecco qua completata la nostra farm di selce. Questo è il risultato finale, ve lo faccio vedere. Tan tan tan. È diverso, è diverso dal solito. Qua la finestra volendo possiamo farla solo rialzata di uno, quindi potremmo fare solo questi due pezzettini qui. Però non mi dispiace anche che tocchi direttamente sopra la siepe. Entrando qua, poi dopo vai direttamente qua giù ed è tutto automatizzato, quindi è interessante. Come dicevo prima, non mi servirà a molto questa farm ancora perché ho già la farm di scheletri che mi procura una marea di frecce. Però ormai l'abbiamo costruita e non vedo il motivo perché distruggerla, ecco. Ora che abbiamo finito la nostra farm di selce, ci dirigiamo verso lo spawner di scheletri, quindi l'XP farm. E andiamo a completare il punto da dove cadono e dove arrivano gli scheletri, quindi dove li ammazzo. E nel mentre vi faccio vedere i progressi perché non sono stato con le mani in mano in questo periodo. Perché? Che cosa ho fatto? Ho sistemato tutta la stanza, diciamo, l'anticamera della farm e ho sistemato anche la camera dove poi noi ammazziamo gli scheletri. Come vi ho già detto, sono stato un po' a FK, ho utilizzato un po' la nostra farm di scheletri, la nostra XP farm. Qua ho messo la porta per fare in modo che non arrivi gentaglia all'interno di questa. E vi faccio vedere appunto tutto il risultato. Siete pronti? Ole! Questa è l'entrata. Ho fatto il pavimento sia qua che giù in blocchi di ossa, ne ho così tanti che posso permettermelo. Ora entriamo, ho fatto il tetto con il granito e l'andesita e levigata. Poi, vabbè, qua ho messo una doppia ceste. Da questa parte ho lasciato la fonte infinita d'acqua, non ho messo a posto ancora il muro e tutto. Ho messo due ceste di riposo, cioè quando arrivo qua lascio tutti i blocchi che non mi servono e scendo a utilizzare la farm. O comunque lascio ciò che voglio lasciare. Come ad esempio il marmo e il vetro colorato che avevo lasciato in preparazione per questa puntata. Infatti, scendiamo qua. Ho preparato questi blocchi per poi mettere a posto questa parte qua. Ora vi chiederete perché c'è un'altra stanza dietro al punto dove cadono gli scheletri. Vi faccio vedere. Qua dietro ho fatto un mega sistema di smistamento automatico. Ma partiamo con ordine. Innanzitutto, questi sono alcuni risultati di un po' di AFK. Qua ci sono tutti archi incantati. Qua tutte armature d'oro. Qua tutte armature d'oro incantate con cui nelle prossime puntate farò un'armatura intera con un sacco di incantamenti. E qua altri archi incantati. Queste prime due ceste sono adibite alle ossa. Come potete vedere già una cesta è piena e questa si sta riempiendo. Queste seconde due ceste sono adibite alle frecce. E queste altre 4, 5 scusate, ceste, con tutti gli hopper del caso, sono adibite a tutto il resto. Adesso cosa facciamo? Oltre a uccidere questi bellissimi scheletri e prenderci il loro succomitale, cioè l'esperienza. Prendiamo un blocco e lo mettiamo qua in alto. Perché lo faccio? Per fare in modo che non cadano scheletri mentre sto costruendo. Dopodiché prendiamo il nostro piccone e distruggiamo queste parti che non utilizzeremo più. E che dobbiamo sostituire con altri bellissimi blocchi. Ora, cosa metteremo? Il mio amico Ruben, 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 mi ha suggerito di fare così. Metto innanzitutto qua delle colonne. Dopodiché, dietro mettiamo invece un blocco di quarzo intagliato. E quindi che va qui e qui. E quindi ha già un aspetto più professionale. Qua dove ho messo questo non lo metterei più, ho cambiato idea. Mettiamo ancora quarzo intagliato, in modo da dare un senso di continuità a ciò che vediamo. Qua sopra togliamo e mettiamo altro quarzo intagliato. E poi mettiamo del vetro. Così quando scenderanno i nostri scheletri, ci vedranno, ma non ci vedranno in realtà. Perché noi vediamo loro, loro ci vedono ma non ci attaccano. Ho messo il blocco anche là sotto di quarzo intagliato. Più di così non posso fare perché dietro lì c'è un hopper appunto. Ora, togliamo da qua sopra questo blocco di quarzo intagliato. Ecco a noi 24 bellissimi scheletri pronti per essere uccisi. Questo è il risultato. Spero che vi piaccia perché a me piace un sacco. Ah ma non ho finito, avevo dimenticato una cosa. Qua sotto concludiamo con dei bellissimi scalini di quarzo per fare in modo che sia un pochino più, tra virgolette, regale. Dopo varie prove, perché mi sono un po' impappinato su questi scalini, ho preso una decisione. Gli scalini ci saranno, ma saranno messi in questo modo. Vi faccio vedere. Che ne dite? Ci sta, vero? A me piace un sacco, vi giuro. Così sembra proprio di arrivare qua e di salire verso la loro morte. E poi faccio così e li uccido. In ogni caso, io vi ringrazio tanto per la visione. Ringrazio ancora The Wad Cat, ringrazio ancora The Wazier e ringrazio anche Ruben perché mi ha dato il suggerimento per questa parte. Vi dico già cosa troverete fatto nella prossima puntata, cioè questa stanza. E vi dico già cosa farò nella prossima puntata, cioè una bellissima farm di mucche. So che devo fare anche quella di polli perché ve l'avevo promesso, ero anche andato nel nether per prendere le cose necessarie per fare la farm di polli, ma prima farò quella di mucche perché mi spianerà la strada poi per fare gli incantamenti. Perciò vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale anche se ancora non l'avete fatto. Se avete qualche consiglio, beh, è ben accetto, quindi datemelo pure nei commenti. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti